Manca un miliardo al comparto sanità per garantire la piena operatività nel 2016. L'appello al governo in vista della legge di stabilità arriva dalla conferenza delle regioni. Il miliardo già concesso da Palazzo Chigi per i governatori non è infatti sufficiente a coprire le esigenze del settore. Per far fronte alle scadenze contrattuali del comparto, alla necessità di distribuire farmaci salvavita come quelli relativi all'epatite C, il piano vaccinale e i nuovi livelli essenziali di assistenza, le esigenze sono circa il doppio, cioè un miliardo in più. A rischio per Chiamparino anche istruzione, politiche sociali e trasporti se non si troverà un'intesa con il governo sul taglio di 2 miliardi e mezzo a extra sanità. Abbiamo fatto partire adesso una lettera di incontro urgente al Presidente del Consiglio dei Ministri perché noi giovedì prossimo dovremmo dare un parere sulla legge finanziaria e la conferenza unanimemente ha ritenuto che sia necessario un incontro prima di quella data per poter avere alcuni elementi sia politici che tecnici in più per poter esprimere un parere. Ci sono regioni che hanno maggiore difficoltà rispetto ad altre? Ovviamente sì, forse non la Puglia non è di quelle che ha difficoltà maggiori, certamente c'è una situazione differenziata da regione a regione e quindi questo è un altro degli elementi che può rendere più complesso il quadro. Ma a preoccupare le regioni c'è anche la programmazione 2017-2018. Una delegazione guidata dal Presidente Chiamparino ha sottolineato alle commissioni congiunte bilancio di Camera e Senato come sia a rischio l'esistenza stessa degli enti regione.